Io penso che è una cosa molto importante vedere come ormai nella coscienza degli italiani sia maturata per una stragrande maggioranza, ormai abbiamo più dell'80% di persone che ritiene l'ecoturismo e il turismo sostenibile o un'opportunità o almeno una necessità. Quindi c'è una stragrande maggioranza. C'è una grande preoccupazione che il turismo possa arrecare anche danno all'ambiente e questo nei giovani ha delle cifre altissime, anche là superiamo il 70% di consapevolezza e nello stesso tempo inizia a esserci una forte attenzione al punto che il 56% degli intervistati è disponibile a pagare qualcosa in più se una struttura turistica ha pannelli solari, offre menu a chilometro zero biologici, fa in modo che la pulizia avvenga con prodotti biologici, biodegradabili, vernici, non chimiche. Quindi un'attenzione davvero interessante. Credo anche che alcune risposte sono molto significative. Abbiamo voluto far fare delle domande anche un po' particolari, tipo preferiresti al mare andare a fare un giro in moto ad acqua o in canoa? Ebbene, la vittoria della canoa è quasi 60-20. Abbiamo chiesto, preferisci andare in montagna a fare un giro in fuoristrada col SUV o andarci a fare trekking. Anche lì è stragrande il numero di persone che decide che preferisce andare a piedi e godersi la natura piuttosto che andare con un SUV, un fuoristrada che magari invece non si aspetterebbe col modello americano imperante in cui vedi tutte queste cose, in posti tra l'altro molto diversi, in campagne molto più grandi, quindi queste cose potevano avere molto più influenzato l'opinione pubblica. C'è una coscienza ecologica che cresce, alla quale ancora non corrisponde una offerta adeguata. Quindi c'è molto spazio. Una delle prime cose, agli insepimenti di balneare, agli villaggi lungo il mare, mettete a disposizione le canoe dei vostri utenti.